Il settore della nautica mostra i primi segnali di ripresa. In questo contesto l'amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione della pista delle barche e a consentire l'avvio del polo cantieristica e pesca all'interno del porto. La società Marina Group se l'era giudicata con gara nel 2004 e la durata della concessione è di 62 anni, a decorrere dal 2005. Difficoltà e lungaggini burocratiche insieme alla crisi che ha colpito il settore della nautica ne hanno prolungato la costruzione. Risolte quasi tutte le problematiche e l'inizio dei lavori da parte di Marina Group è imminente. La concessione demaniale aveva però un termine per l'utilizzo delle aree e cioè il prossimo 30 giugno. Così il comune ha deciso di concedere al consorzio una proroga e dare quindi alla città una concreta occasione di crescita economica. Considerata la situazione che si è presentata ha deciso di dare dei nuovi termini per l'inerzia a eseguire l'intervento. Quindi viene posto un termine al 31 dicembre 2016 per la esecuzione delle opere di urbanizzazione. Quindi intendiamo le strade, i sottoservizi, la pubblica illuminazione e nonché le aree verdi arridate presenti nella zona, nel comparto dato in concessione. Poi entro sei mesi dopo, cioè entro giugno del 2017, è necessario poi svolgere l'intervento di riqualificazione e di manutenzione straordinaria della passeggiata dell'Isippo e chiaramente entro cinque anni occorre realizzare l'intervento complessivamente, cioè edificare poi i capannoni. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è chiaro insomma. Siamo in un momento in cui ci sono dei segnali di ripresa della nautica e questo è l'unico modo che ha l'amministrazione di poter favorire e riaprire una finestra verso un'industria che ha dato tanto alla città e che oggi noi, come dire, avvertiamo nella sua mancanza, cioè la crisi della nautica ha messo in ginocchio una bella fetta dell'economia di questa città. Quindi riapriamo questa finestra, abbiamo la fiducia che le cose possono ripartire e immediatamente otteniamo nel giro di un anno 500 mila euro circa di lavori, mezzo milione di euro di lavori in urbanizzazioni che comunque vanno nel tessuto economico della nostra città. Proseguono intanto i lavori di asfaltatura delle strade comunali di Fano, dopo gli interventi in via Giordano Bruno, in via De Borgarucci e in parte di via Giuglini, oggi sono iniziati quelli in via del ponte da piazzale Bonci a via della Repubblica, dove però alcuni esercenti hanno lamentato il fatto che la strada è stata chiusa al traffico due giorni prima rispetto all'inizio dei lavori, creando così disagi ai commercianti e ai loro clienti.